Hello everyone! Vorrei presentare il progetto dell'Istituto Comprensivo di Cortemiglia e Saliceto per la creazione di una sezione bilingue alla scuola dell'infanzia. Il progetto avrà una durata di due anni a partire da settembre 2021 e proseguirà per l'anno scolastico successivo. Sarà mirato ai bambini di 4 e 5 anni della scuola dell'infanzia e quindi si prevede una sezione di circa 15 bambini. Le attività di questo progetto si svolgeranno tutti i pomeriggi di presenza a scuola per tutto l'anno scolastico. Questa è una grandissima opportunità e adesso vi spiego perché. Facendo attività in inglese ogni giorno possiamo raggiungere degli obiettivi molto importanti. Il bambino acquisisce confidenza nel parlare e capire l'inglese di un madrelingua allenando l'orecchio nel capire e la pronuncia corretta, tutto nel contesto del normale percorso scolastico. Soprattutto il bambino avrà un'esposizione quotidiana alla lingua inglese e così lo assimila in modo naturale e facile. Il bambino incontrerà argomenti e vocabili che saranno già stati presentati nel programma in italiano quindi la familiarità degli argomenti lo aiuteranno ad assimilare il linguaggio anche in inglese. Il metodo che usiamo consiste in semplici giochi, giochi di ruolo, lavoretti artistici e musicali, canzoni e attività tutti in inglese, così imparando frasi e vocaboli di uso quotidiano in modo naturale e divertente. Gli obiettivi finali di questo progetto sono molteplici. Prima di tutto vogliamo aumentare la confidenza e la dimistichezza con la lingua straniera con un approccio sempre naturale e divertente. Questo darà al bambino il modo di proseguire il percorso scolastico con un bagaglio linguistico ben acquisito in modo il più possibile come la lingua madre. E questo renderà la continuazione dello studio meno faticoso e con un risultato finale migliore. Le competenze linguistiche che si dovranno acquisire saranno i saluti, semplici domande e risposte di uso quotidiano, strutture sintatiche semplici e modi di dire comuni. E naturalmente i vocaboli rispecchieranno gli argomenti del programma fatto in italiano. Quindi i colori, i numeri, il cibo, gli animali, semplici istruzioni, eccetera. E vorrei anche sottolineare il vantaggio di questo progetto sta nell'esposizione quotidiana all'inglese, che ricrea il più possibile il modo di acquisire la propria lingua madre, rendendo la competenza naturale, automatica e consolidata nel tempo. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto.